Continue interruzioni improvvise di energia elettrica ed enormi disagi per cittadini, commercianti, gelaterie, bar, ristoranti e strutture ricettive che senza alcun preavviso si sono ritrovati senza corrente e nemmeno una precisa indicazione sui tempi di ripristino del servizio. Un'emergenza che ha interessato negli ultimi giorni alcuni comuni costieri del basso salernitano e il caso di Camerota, Centola Palinuro e Sapri. Tante le critiche per il disservizio di cui non se ne conosce esattamente la natura. Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, per far fronte a questa situazione critica ha sollecitato urgentemente un incontro con i vertici di Enel per discutere della problematica e individuare una risoluzione tempestiva del problema. L'incontro è stato fissato per martedì prossimo a Camerota. La continuità dell'energia elettrica, precisa il sindaco Scarpitta, è un elemento fondamentale per il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto durante la stagione estiva. I blackout improvvisi continua stanno causando notevoli disagi e siamo determinati a trovare una soluzione immediata a questa emergenza. Ringrazio i vertici di Enel per essere disposti ad ascoltare le nostre preoccupazioni.